Domenica 13 marzo 2022, presso lo stadio comunale di Torchiara, si sono affrontate ASD Torchiara Calcio e Fox Pestum per la quindicesima giornata del girone D della terza categoria di Salerno. Grazie al risultato finale di 1-1, la Fox Pestum si piazza al centro della classifica e il Torchiara rimane ultimo. Il primo tempo finisce a redi bianche, mentre succede di tutto nel secondo. Prima il Torchiara colpisce un palo, poco dopo passano in vantaggio i padroni di casa, grazie al centroavanti Vincenzo Volpe su assist del compagno Marino. Gli ospiti agguantano il pareggio allo scadere del tempo con un gol viziato da un possibile fuorigioco, gli animi si riscaldano e la partita si interrompe per qualche minuto. Quasi allo scadere del match si presenta un'ottima occasione offensiva per il Torchiara, ma l'attaccante cade a terra in aria e l'arbitro rascia a correre con i giocatori che chiedevano il rigore.